Il Circuit of the Americas at Austin è un tracciato con vari cambi altimetrici che include due rettilinei, di cui il più lungo è nell'ultimo settore ed è caratterizzato da una veloce, lunga piega a destra. La frenata più severa precede curva 12. La frenata più severa precede curva 12. La frenata più severa precede curva 12.